Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi vi dirò le affermazioni tipo delle squadre di serie A, i rigoristi e i tiratori di punizione e angoli in serie A, le gerarchie squadra per squadra ragazzi, rimanete sintonizzati e iscrivetevi al canale ragazzi, mi raccomando, lasciate like e commentate, allora, le formazioni tipo delle squadre di serie A, i titolari, gli schieramenti, di seguito tutti gli schieramenti tipo delle squadre di serie A, uno strumento per orientarvi negli acquisti del fantacalcio, il fantacampionato e il gazzetto nelle vostre leghe private, Atalanta, formazione tipo dell'Atalanta, incominciamo, allora l'Atalanta si schiera con un 3-4-2-2-1 ragazzi, mettiamo Carnesecchi, poi Jim City, Yenne, Kolasinac, Zappacosta, Deron, Ederson, Ruggeri, Zaniolo, Lokma e Rettegui. Poi Bologna, formazioni tipo 4-2-3-1, Skorup, Schiposch, Buchema, Lukumi, Miranda, Friule, Abisher, Borsolini, Fabian, Cambiaghi, Dall'Inga, poi la formazione tipo del Cagliari ragazzi, 3-5-2, Skuffe, Luperto, Mina, Ober, Zortea, Macumbu, Pratti, Adoppo, Felici e Piccoli, poi formazione tipo del Como, allora il Como invece si schiera con un 4-2-3-1, ora diciamo tutte le formazioni tipo e dopo vediamo tutti i rigoristi. Il Como fa con Audero, Iovine, Varan, Goldaniga, Moreno, Mazzitelli, Braunoder, Strefezza, Cutrone, Dacugna, Belotti, poi Empoli, Lempoli col 4-3-3, mettiamo Vasquez, Stoi, Sinac, Ismaili, Valuziewicz, Pezzella, Fazzini, Grassi, Zurkowski, Giasi, Colombo ed Esposito ragazzi. Invece la formazione tipo della Fiorentina è il 3-4-2-1 e mettiamo Terrassiano, Pongracic, Quarta, Ranieri, Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi, Gonzale, Scolpani e Kenne. Poi troviamo Genoa, formazione tipo del Genoa, 3-5-2, Leali, De Winter, Vogliacco, Vasquez, Sebelli, Malinkowski, Badelli, Frondrup, Martin, Gudmundsson e Vitigna. Poi Inter, formazione tipo 3-5-2, Sommer, Pavara, Cerbi, Bastoni, Danfris, Barella, Cialanoglu, Mkhiterin, Di Marco, Turam e indovinate chi come punta? Lautaro Martinez ragazzi. Vediamo la formazione tipo della Juve, 4-2-3-1 con allenatore Tiago Motta, Di Gregorio, Cambiasso, Bremer, Danilo, Cabal, Douglas, Luiz, Turam, UEA, Fagioli, Ildiz e Vlaovic ragazzi. Lazio, formazione tipo Provvedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Gendousi, Rovella, Ciaunà, Castrovilli, Zaccani e Castellanos. Allora vediamo la formazione tipo del Lecce, 4-2-3-1 in Lecce ragazzi. Eschierano, Falcone, Gendriga, Sparba, Schirotto, Gallo, Ramadami, Pierre-Re, Morente, Audin, Banda, Christovic, poi il Milan. 4-2-3-1, Magna, Calabria, Tiao, Tomori, Tiago Hernandez, Benassar, Reiner, Spurisic, Loptus Cech, Leao, Morata. Monza, formazione tipo 3-4-2-1, Pizzignaco, Izzo, Mari, Carboni, Birindelli. Birindelli, Bondo, Pesina, Chiri, Acopulos, Maldini, Ecaprari e Giuric. Poi troviamo il Napoli, formazione tipo 3-4-2-1, Mereta, Ramani, Buongiorno, Rafa Marini, Di Lorenzo, Anguissallo, Botca, Spinazzola, Politano, Cavara, Schelia e Raspadori. Poi troviamo Parma, formazione tipo 4-2-3-1, Suzuki, Del Prato, Osorio, Circati, Valeria, Esteve, Cernani, Mann, Bernabè, Miaila e poi Bonni. E poi la formazione tipo della Roma ragazzi, 4-3-3, Svillars, Elik, Mancini, Indicca, Angelino, Lefe, Paredes, Pellegrini, Dybala, Dobic, Solè. Poi troviamo la formazione tipo del Torino, 3-5-2, Milikovic, Savic, Voivoda, Cocco, Masina, Bellanova, Tamezzi, Ricci, Ginetis, Lazaro, Sanabria, Zapata. Poi troviamo Udinese, 3-4-2-1, Ocoye, Perez, Biol, Cristian, Senebossele, Lovric, Pajero, Camara, Teuven, Samarsic e Lucca. Poi Venezia, formazione tipo 3-4-2-1, Iorone, Izzes, Svadoda, Sverco, Candela, Busio, Jajalo, Zampano, Oristanio, Pierini e poi Jampalo. E poi la formazione tipo del Verona, 4-2-3-1, Montipoccio, Aona, Magnani, Davidovici, Fresè, Duda, Sedata, Tavassin, Arrui, Lazovicemmo e Moschera. E ora ragazzi vi dico i rigoristi e i tiratori di punizioni angoli in serie A. Le gerarchie squadra per squadra, la lista. Atalanta, per i rigoristi ci sono Lukman, De Kettler e Passalic. Per i calci di punizione Lukman e De Kettler e i calci d'angolo Lukman e Passalic. Poi troviamo per il Bologna Orsolini, calci di rigore con Castro e Dallinga. Invece per le punizioni Orsolini, Liccaugiani, Scarlson e calci d'angolo Orsolini e Ndoye. Poi Cagliari, per i calci di rigore Viola, Piccoli e Mina. Calci di punizione Viola, Luvumbo e Zappa. E calci d'angolo Marin, Viola e Prati. Poi vediamo un po' ragazzi. Allora, Comon. Calci di rigore Verdi, Cotrone e Belotti. Calci di punizione Verdi, Dacugni e Belotti. Calci d'angolo Verdi e Strefezza. Empoli, calci di rigore Caputo, Esposito e Fazzini. Punizioni, Fazzini, Pezzella, Cacacce. E calci d'angolo Zurkowski, Esposito e Fazzini. Poi Fiorentina, calci di rigore Gonzales, Beltran, Biraghi. Punizioni, Biraghi, Gonzales, Mandragora. Calci d'angolo Gonzales, Biraghi, Colpani. Per il Genoa, rigoristi Gudmusso e Malinkowski. Punizioni, Gudmusso, Malinkowski e Martini. Calci di angolo Gudmusso, Malinkowski e Messias. Inter, calci di rigore Cialanoglu, Lottora Martinez e Taremi. Punizioni, Cialanoglu, Di Marco e Michiteria. Calci d'angolo, Cialanoglu, Di Marco e Michiteria. Per la Juve, rigoristi Val, Vlaovic, Douglas Luiz e Danilo. Per le punizioni, Vlaovic, Douglas Luiz e Eldiz. Calci d'angolo, Douglas Luiz e Eldiz. Andiamo un po'. Per la Lazio, Zaccagni, Gundosi, Rovella. Rigori, punizioni, Zaccagni, Cioma e Gundosi. E per i calci d'angolo, Zaccagni e Loslin. Per il Lecce, invece, calci di rigore, Christovic, Oden e Morente. Punizioni, Oden, Rafiak, Christovic, Angolo, Oden, Banda e Gallo. Per il Milan, rigoristi, Morata, Teo Arnandez e Pulisic. Per le punizioni, Florenzi, Teo Arnandez e Pulisic. E per i calci d'angolo, Pulisic e Ben Nasser, ragazzi. Poi per il Monza, rigoristi, Pessina, Caprari e Giudici. Punizioni, Caprari, Chiria, Coppolo, Semachin. Calci d'angolo, Pessina, Caprari e Maldini. Napoli, calci di rigore, Politano, Cavarascheli e Raspalori. Per le punizioni, Politano, Cavarascheli e Mario Rui. E per i calci d'angolo, Cavarascheli e Politano. Qui troviamo il Parma, calci di rigore, Men, Boni e Benedicciac. Poi per le punizioni, Bernabè e Hernani. Calci d'angolo, Bernabè e Mann. La Roma, calci di rigore, Dybala, Paredes e Pellegrini. Poi troviamo per le punizioni, Dybala, Soulet e Paredes. E poi troviamo calci d'angolo, Dybala, Pellegrini e Soulet. Per il Torino, rigoristi, Sanabria, Zappata e Vlasic. Punizioni, Lazzaro, Vlasic e Ricci. E per il calci d'angolo, Ricci e Voivoda. Udinese, rigoristi, Toven, Samarsic e Lucca. Calci di punizione, Samarsic, Toven e Lovric. E per il calci d'angolo, Toven, Samarsic e Lovric. Per il Venezia, rigoristi, Poyampalo e Chaktie. Punizioni, Tessman e Euristanio. Calci d'angolo, Chaktie e Euristanio. Per il Verona, rigoristi, Moschera, Suslov, Arrui. Punizioni, Suslov, Dudo e Arrui. Calci d'angolo, Suslov, Arrui e Duda. E ora vediamo un po'. Allora ragazzi, abbiamo detto prima le formazioni tipo delle squadre di A. E poi i rigoristi e i tiratori di punizioni. E anche dei calci d'angolo, ragazzi. Rigoristi e i tiratori di punizioni, angolinale. Gerarchie, squadra per squadra. Napoli, blizza di mano a Londra per chiudere Lukaku e Gilmour. I dettagli. E allora Osimène andrà sicuramente o al Paris Saint-Germain o se no al CES. Blizza di mano a Londra per chiudere Lukaku e Gilmour. I dettagli ragazzi. Un'ora fa. Un'ora fa. Mercato Napoli. Salta Cajuste. Fiorentina su Bove. Venezia. Ceni Colussi, ragazzi. Allora ragazzi. Vedete che il Napoli sta per chiudere Lukaku e Gilmour per il Napoli. Blizza di mano a Londra. Per chiudere Lukaku e Gilmour. Mi raccomando ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Lasciate like e soprattutto commentate. Zuby Mendy dice no a Liverpool. I motivi del Civo e i Monti dei Paesi Baschi. Atalanta per il dopo Cupa Miners. Tutto suo relay. Salta Pubil. Arriva Wesley. Ragazzi io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao.